Abbiamo questa piaga che secondo me è una vera e propria piaga degli abbandoni dei gattini piccoli. Noi tutti i giorni riceviamo richieste di aiuto e ogni anno non cambia niente. Al momento sono solamente quattro amici ospitati dal veterinario Alberto Brandi che cercano casa, ma dall'inizio della bella stagione sono stati decine e decine i gattini ai quali ha trovato una famiglia. Una situazione che ciclicamente si ripropone anno dopo anno con due 300 cuccioli abbandonati curati gratuitamente nel suo ambulatorio sino all'adozione e così il dottor Brandi lancia nuovamente il suo appello per tutelare questi animali. Secondo me ci vuole, lo ripeto, ci vuole che chi deve fare le leggi, quindi la politica, prenda in mano questa situazione. Probabilmente loro non si rendono nemmeno conto di quello perché tra le associazioni di volontariato o chi come me fa quel poco per questi animali magari il problema non arriva nei piani alti di chi deve comandare quindi non gli riguarda, però vi assicuro che c'è e non è bello vedere questi gattini che poi a volte arrivano sani, a volte invece arrivano malati, sono soli, vivono ora d'estate su gabbie calde. Noi più di quello non possiamo fare che curarli, dargli da mangiare e cercare un'adozione. Però secondo me ci vorrebbe poco, ci vorrebbe che le persone sterilizzassero, le sterilizzazioni non costano un patrimonio. Ci vorrebbe il microchip per i gatti perché almeno sappiamo di chi sono, quindi ci vorrebbe anche l'educazione proprio che deve partire dalle scuole per rispetto degli animali, delle loro cure, di quello che c'è bisogno da fare perché in quest'altra maniera ci comportiamo come un paese di serie B.